Come dobbiamo interpretare il linguaggio del corpo? Il linguaggio del corpo va interpretato in funzione del contesto dove ci troviamo. Non possiamo interpretarlo in modo avulso, in modo assoluto. Farò un esempio qua in due contesti. Due contesti, ad esempio, possono essere il rapporto uomo-donna, quindi un contesto di un uomo-una donna che stanno comunicando o tra loro. Allora, in questo contesto dipende un po' dal, anche qua, questo è un microcontesto, da dove questo microcontesto si trova, perché due uomini e un uomo-una donna potrebbero comunicare in una cena romantica in un ristorante e siamo in un contesto. Potrebbero comunicare davanti alla macchinetta del caffè in un ufficio e già ci troviamo in un altro contesto. Quindi bisogna capire bene dove ci troviamo, perché alcuni messaggi possono essere decodificati in un modo piuttosto che in un altro. Ad esempio, se siamo in una cena romantica, il fatto che la donna, mentre parla, alza il collo, esibisce questo lato del collo, perché questo lato del collo è un lato, diciamo, di natura, è una zona erogena secondaria, per cui tutte le volte che vengono esibite delle zone erogene secondarie sono messaggi, diciamo, di carattere sessuale se il contesto è quello. Oppure tende a esibire i polsi mentre parla, è evidente che i messaggi sono di natura erotica, di natura sessuale, quindi mi sta dando una disponibilità, diciamo, a un semaforo verde in quel senso. Se lo stesso tipo di messaggio viene, diciamo, esibito in un ufficio oppure alla macchinetta del caffè con una collega, è chiaramente sempre un messaggio, diciamo, di disponibilità sessuale, ma non è detto A che sia rivolto a me, perché magari ci potrebbero essere altre persone, ad esempio una riunione, eccetera. B non è detto che sia ancora passato a livello logico-razionale, perché, diciamo, quando una persona sente un impulso, sente una pulsione, lo sente, la sente inizialmente a livello emotivo, quindi non viene ancora, non passa ancora a livello subliminale, quindi l'altra persona non è ancora diventata simbolo. E quindi se siamo in un contesto così che non favorisce, diciamo, o che non ci dà indicazioni sul fatto che siamo noi veramente i fruttori di quel messaggio e che, diciamo, il messaggio è passato già a un livello logico, quindi la persona c'è già identificati come simboli, prendiamo atto della cosa, però dobbiamo ancora lavorarci sopra, dobbiamo ancora amplificarlo, dobbiamo ancora fare delle verifiche, per evitare ovviamente di fare delle brutte figure. Vediamo adesso un micro contesto di due uomini, anche qua possono essere in macro contesti diversi, può essere una riunione di lavoro, possono essere due amici al bar o seduti in un caffè, eccetera. Anche qua alcuni messaggi possono essere decodificati in modo diverso. Ad esempio, due persone che si salutano, l'uomo stringe, uno stringe la mano e l'altro, entrambi ovviamente si stringono la mano, e l'altro mette l'altra mano alla sinistra sulla spalla, in questo modo, sulla spalla dell'altro. Questo è un gesto di dominanza, che ad esempio lo facciamo anche con gli animali, se vogliamo, un cane ad esempio, se noi vogliamo esprimere un gesto di dominanza sul cane, gli mettiamo una mano sulla testa. Infatti il cane, se accetta, diciamo, farsi tenere la mano sulla testa, significa che accetta, diciamo, tra virgolette di essere dominato, perché la mano sulla testa ovviamente lo blocca. Nell'essere umano vale la mano sulla spalla, quindi io ti do la mano, l'altra te l'appoggio sulla spalla, ti sto facendo passare il messaggio analogico, subliminale, che voglio essere dominante nei tuoi confronti. Ora, anche qua dipende un po' dal contesto, perché se fossero due persone che si salutano a un funerale, la mano sulla spalla potrebbe più che dominanza voler dire conforto, ma comunque è sempre una dominanza, nel senso che io ti proteggo, io ti conforto, quindi io sono qualcosa in più di te. Quindi sono tutti, diciamo, parametri che servono per valutare il linguaggio del corpo. Dobbiamo però soffermarci bene sul contesto dove si esprimono questi messaggi. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog www.seduzionov.com. Ciao a tutti!